Tornare alla normalità in tempi brevi, questo è l'obiettivo del governo musumeci che sta cercando di fronteggiare i danni del sisma che 24 ore fa ha distrutto casa e messo a rischio i collegamenti autostradali lungo l'A18. Il terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito i paesi dell'Etna ha danneggiato anche il manto autostradale lungo l'autostrada Messina-Catania. Da ieri uomini e mezzi sono entrati in azione all'altezza dello svincolo 10 reale, danneggiato dai movimenti di faglia collegati alla scossa. Alle 7 di ieri un'impresa specializzata, la presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, ha dato inizio ai lavori di ripristino del manto stradale. Dopo il sisma infatti si è formato una sorta di dosso e l'asfalto si presenta sconnesso in più punti. Dopo il terremoto siamo intervenuti su più fronti, illustra il Presidente della Regione Nello Musumeci, disponendo un intervento urgente per ridurre al minimo i disagi lungo l'A18 con l'obiettivo del rapido ridorno alla normalità di un'arteria autostradale strategica per l'intero versante orientale dell'isola. L'assessore Falcone, mandato sul posto dal Governatore, ha compiuto anche un sopralluogo e concordato con i tecnici del CAS e un'impresa alla tabella di marcia dei lavori. Al più presto il Governo Musumeci intende voltare pagina rispetto all'emergenza, spiega Falcone, si lavora dunque per metterci il peggio alle spalle. Sono state compiute indagini approfondite nella zona fratturata ed è già partita la rimozione del vecchio manto. Entro 15 giorni, assicura l'assessore, la strada sarà di nuovo in sicurezza e il tratto dello svincolo 10 reale verrà riasfaltato nella sua interezza.